Questo bollino garantisce l'assoluta originalità, l'unicità e il valore del processo creativo del vetro di Murano. È una sorta di carta d'identità. Il nuovo marchio di tracciabilità vetro artistico Murano è stato presentato dal consorzio Promo Vetro con il sostegno della Regione e della Camera di Commercio di Venezia Erovigo. Il contrassegno, realizzato seguendo le più moderne tecnologie, consentirà all'utente finale di ripercorrere tramite smartphone, tablet e pc l'intera storia del prodotto ricostruendone il processo di creazione. Si tratta di uno strumento per combattere il problema della contraffazione. Da una ricerca condotta dalla Camera di Commercio si evince infatti che a minare alla base il tessuto produttivo di Murano è la concorrenza sleale dei prodotti realizzati al di fuori dell'isola, pari all'80% di quanto venduto nei negozi del centro storico. L'indagine, svolta su un campione di 12 negozi e 120 oggetti, ha evidenziato anche la presenza sui prodotti di ben 41 ture diverse, nove delle quali fanno inequivocabilmente riferimento a una lavorazione effettuata all'interno di Murano. Ora non si potrà più sbagliare, l'originale è questo. Diciamo che potranno comunque taroccarlo, però adesso sarà molto molto più impegnativo farlo, sarà molto molto più costoso rispetto a quello che era prima che si trattava insomma di contraffare un semplice bollino. Questo ha sette sistemi di sicurezza e tracciabilità per cui insomma è come contraffare l'euro.